L'ottantesimo anniversario dello sbarco alleato potrebbe rappresentare l'occasione di un rilancio turistico e di immagine della città, sulla quale l'amministrazione comunale, nelle secche della crisi finanziaria, sta provando a concentrare parecchie attenzioni. Ma mentre gli echi della mozione di sfiducia si sono assopiti in attesa del secondo round previsto il 12 giugno, oggi i costi delle manifestazioni per l'ottantesimo potrebbero diventare un boomerang politico per il sindaco Lucio Greco e per la sua giunta. L'anniversario dello sbarco, con la serie di eventi esso concatenati, potrebbe essere un primo passo per creare un appuntamento annuale stabile. Eppure, proprio su questo versante, l'avvocato Greco e l'assessore Salvatore Incardona si stanno trovando davanti a polemiche che iniziano a montare, tutte focalizzate sui costi dell'intero evento, che si protrarrebbe almeno fino a settembre sulle modalità di scelta dei progetti e degli stessi eventi. La soglia del milione di euro, che dovrebbe essere coperta in gran parte dai fondi delle compensazioni eni, ad alcuni pare fin troppo azzardata, in un periodo di ristrettezze assolute per l'ente comunale. Polemiche sterili perché ad oggi non c'è un preventivo di spesa, ma c'è soltanto un'idea che fra l'altro è stata avanzata dal Comitato Tecnico Scientifico. Idea che al vaglio dell'amministrazione e delle commissioni consigliari turismo e sviluppo economico, preventivo di spesa che viene setacciato in maniera molto molto attenta e che, devo dire, senza timore di smentita, che già da quello che il Comitato Tecnico Scientifico ha presentato, la metà delle spese dovranno essere affrontate, ma non per grandi segreti o chissà che, soltanto perché oggi la tempistica ci impone di dare un altro passo a quello che è l'organizzazione degli eventi e l'ottantesimo dello sbarco. L'amministrazione però non vuole lasciare a binario morto le somme delle compensazioni destinate al rilancio turistico e culturale. Oltre ai costi, anche agli affidamenti degli eventi, con somme comunque importanti, più di qualche dubbio lo lasciano. La valutazione è stata affidata però a un Comitato Scientifico, autorizzato dalla stessa amministrazione. Probabilmente garantire una maggiore concertazione pubblica sarebbe stata la via per evitare i sospetti. È chiaro che l'amministrazione che ha ricevuto tutti questi progetti, e qua dicevo appunto che li stiamo evagliando attentamente, interrogerà, interpellerà chi di competenza per far sì che la spesa venga certificata in maniera corretta. Cosa si sente di dire a chi dice che state organizzando l'estate gelese con i fondi dello sbarco? Assolutamente impossibile, ma non perché lo dice l'assessore Incardona, perché le compensazioni hanno un capitolo ben preciso, destinato e che nessuno può fare varianti o chissà che cosa, né tantomeno il sindaco, né tantomeno l'assessore Incardona. In settimana il primo cittadino e l'assessore sono stati sentiti in audizione dalle commissioni sviluppo economico e turismo. Hanno riferito che quello attuale è un programma di massima che va ancora approfondito e valutato anche sul fronte della spesa complessiva. L'unica certezza sembra l'uso delle compensazioni, anche se adesso tutto si gioca sui tempi sempre più stretti. La dirigenza di Eni ci ha assicurato che una volta presentato il programma in massimo una settimana le somme verranno sbloccate proprio perché il comune di Gela fa parte già dei fornitori, se così vogliamo chiamarlo, dei fornitori delle prestazioni di Eni. Quindi non c'è bisogno di un attento controllo di complianze e cose varie. Proprio oggi in programma è prevista una commissione congiunta appunto delle commissioni consigliari turismo e sviluppo economico dove insieme all'amministrazione si farà un punto definitivo e si presenterà il programma. Quindi penso, spero, mi auguro anche per la città e per il rilancio della città che entro una settimana, al massimo dieci giorni, avremo le somme sbloccate. Dall'opposizione intanto si lavora alla richiesta di una seduta monotematica del civico consesso proprio per affrontare pubblicamente il tema. I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia e Forza Italia e l'eghista Giuseppe Spata hanno sottoscritto la richiesta di convocazione di una seduta da destinare solo alla questione dell'ottantesimo anniversario dello sbarco alleato, evidentemente diventato un caso anzitutto politico. L'istanza è stata formalmente depositata alla presidenza di turno dell'assise civica, verrà valutata e a questo punto il dibattito dovrebbe arrivare anche tra gli scranni dell'aula.